In questo video approfondiremo insieme l'homo ergaster e l'homo erectus. Vi consiglio di guardarlo con grande attenzione perché impareremo insieme tante cose nuove e vi tornerà utile per rispondere al prossimo quiz sul quaderno. Ecco un esempio di homo ergaster e ecco un esempio di homo erectus. Andiamo a vedere insieme l'homo ergaster. Per prima cosa dobbiamo ricordare che la parola ergaster vuol dire lavoratore o artigiano perché era un uomo che seppe creare molti strumenti utili per la caccia, per la difesa personale e non solo. Visse tra due milioni e un milione di anni fa. Aveva una struttura fisica piuttosto simile alla nostra. Fu il primo ominide ad uscire dall'Africa. Pensate bambini che dei resti di homo ergaster vennero trovati in Georgia che è uno stato dell'Asia meridionale, cioè della parte inferiore, quella più bassa per capirci dell'Asia. Quindi fu il primo a lasciare la culla dell'umanità per dirigersi altrove. Infine l'homo ergaster ebbe un primato che fu quello di saper mantenere il fuoco. Attenzione bambini, ancora non era in grado di accenderlo probabilmente, però era in grado di alimentarlo e di tenerlo vivo quando accidentalmente veniva piccato del fuoco o quando il fuoco divampava in natura, per esempio in seguito a un fulmine. Ecco, lui era in grado di tenerlo vivo perché già aveva capito le enormi potenzialità che il fuoco aveva. Per un periodo homo ergaster e homo erectus convissero, cioè vissero contemporaneamente. Infatti l'homo erectus visse tra 1,5 milioni di anni fa e 200 mila anni fa. Guardate bambini che visse per un periodo molto lungo, probabilmente è stato uno degli homines più longevi della storia, cioè delle categorie di homo che ha vissuto per più tempo. Attenzione perché l'homo erectus, poi lo vedremo meglio con una cartina, visse non solo in Africa come i suoi predecessori, ma come già fece l'homo ergaster, però in maniera più ampia, cominciò a spostarsi, a trasferirsi. Ricordate il verbo migrare perché si spostò anche in Asia e in Europa. Pare che arrivò anche in Italia. L'homo erectus era un abile cacciatore. Il fatto che fosse molto bravo nella caccia significa che poteva avere a disposizione moltissima carne, quindi la sua dieta era ricca di carne. E questo sapete cosa vuol dire? Che le sue proteine erano un ottimo alimentatore per il suo cervello, che era ben più sviluppato di quello dei suoi antenati. Alcuni studiosi, pensate un po' bambini, dicono che il cervello dell'homo erectus è paragonabile al cervello che oggi ha un bambino di un anno. Detto così forse può sembrare poco, ma in realtà era piuttosto evoluto. L'homo erectus cammina in posizione eretta. Il nome erectus ci ricorda questo aggettivo, vero? Non fu il primo a camminare bipede. Questo lo sapete, già l'homo abili, camminava su due gambe. Però ha acquisito una posizione ben più eretta, cioè il suo busto, la parte superiore del corpo è molto più in verticale, diciamo così, rispetto ai suoi antenati. Le mani continuano ad essere libere per poter essere utilizzate per far altro, come ad esempio la costruzione di vari strumenti. Uno degli strumenti che più sovente, più spesso costruisce l'homo erectus è quello che vedete nello schermo in basso a destra. Si chiama amigdala. Amigdala vuol dire mandorla, perché ha proprio questa forma di una mandorla. Abbiamo visto che l'homo habilis aveva creato il chopper, che era la pietra scheggiata da un lato. L'amigdala è un po' diversa, perché se osservate con attenzione vi accorgete che è lavorata su tutti e due i lati. La utilizzavano per cacciare, per tagliare le carni, per raschiare le pelli e per tanti altri utilizzi. L'homo erectus era un uomo nomade. Questo l'abbiamo intuito anche pensando al fatto che si è così spostato addirittura da lasciare l'Africa per arrivare in Asia e in Europa. Non viveva da solo, ma viveva in gruppi. E pensate, bambini, che ognuno all'interno del gruppo aveva il proprio ruolo preciso. I maschi erano coloro che dovevano cacciare, difendere il territorio e fabbricare oggetti. Le donne e gli anziani, invece, curavano i bambini, i figli e si occupavano della raccolta dei frutti. Quindi, anche chi non andava a caccia aveva un compito fondamentale, che era quello di mantenere vivo il fuoco per il resto del gruppo. All'interno del gruppo, i membri, cioè le persone che ne fanno parte, comunicavano con un linguaggio piuttosto semplice, oppure utilizzando i gesti. L'homo erectus, lo sapete già, bambini, fece una grandissima scoperta, che è? Esattamente, il fuoco. Molto bene. Il fuoco perché fu così una scoperta speciale? Per molti motivi che li riassumiamo in quattro. Innanzitutto perché permette di riscaldarsi e voi sapete che nel corso della preistoria ci furono anche periodi di glaciazioni e quindi poter riscaldarsi era sicuramente una grande cosa. Poi il fuoco è utile per difendersi, per spaventare gli animali, per farli allontanare, ma è anche utile per illuminare. Spesso vivevano nelle caverne o all'interno di grotte, che erano totalmente buie. Infine, è utile per cuocere cibi. Cibi cotti vuol dire anche cibi che possono durare più a lungo, conservarsi meglio. Il fuoco fu una grandiosa scoperta che cambiò il corso della preistoria. L'Homo erectus, siccome si spostò dall'Africa per arrivare in Asia e in Europa, fu il primo migrante. Questa cartina, che non è in lingua italiana, però è molto chiara, ci mostra in verde le zone dove sono stati ritrovati i resti di australopiteco. Lo vedete? È in Africa, quella è l'Africa. Le frecce rosse e poi i puntini ci fanno vedere dove l'uomo erectus si è spostato e dove sono stati trovati alcuni dei suoi resti. Quindi si espande di molto nel mondo. Migrare vuol dire spostarsi dalla propria terra d'origine per andare a vivere da qualche altra parte. Questo fece l'uomo erectus. Bene, bambini, per ora, per quanto riguarda omergaster e omerectus, è tutto. Io vi invito a fare i compiti che vi sono stati indicati e vi do appuntamento alla nostra prossima lezione. Un caro saluto dalla vostra maestra Gloria. Ciao!